La famiglia Blasi è stata sorpresa da una meravigliosa notizia. Dopo Christian, figlio di Ilari Blasi e l'ex capitano della Roma Francesco Totti, arriva un'altra benedizione a illuminare le loro vite. L'entusiasmante annuncio è stato condiviso sui social media. Nonostante la fine del matrimonio tra Totti e Blasi, che ha lasciato un segno doloroso per i fan e le persone legate a questa coppia iconica da anni, sembra che un po' di serenità stia tornando nella loro vita. La conduttrice, attualmente legata all'imprenditore tedesco Bastian Mohler, avrebbe deciso di restituire le chiavi della Totti Soccer School all'ex marito per evitare i coinvolgimenti di terze persone nella loro separazione. La famiglia Blasi ha passato un periodo difficile, ma sembra che ci sia un'aria di cambiamento positivo. Inoltre, i fan sono stati sorpresi dalla notizia che la cicogna ha portato un maschietto in casa Blasi dopo 18 anni. Dopo la nascita di Christian, la conduttrice e le sue sorelle avevano dato alla luce solo bambine. Tuttavia, questa volta il lieto evento non sarà annunciato con un fiocco azzurro sulla villa a Leur. La sorella di Hilary, Melory, ha dato l'entusiasmante annuncio durante un baby shower, ma la mancanza dell'imprenditore Bastian Mohler ha sollevato alcune preoccupazioni tra i fan. Sono vere le voci di una crisi tra la conduttrice e il tedesco? I supporter della famiglia Blasi sono allarmati e aspettano di vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.